Ben trovati a Sport News. Suona forte l'inno di Mameli alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dove prosegue il predominio di Sofia Raffaeli della ginnastica Fabriano. Oro al cerchio con 32.800 punti, oro alla palla con 33.650 punti, oro anche alle clavette con 33.400 punti e poi argento al nastro con 30.500 punti. Qualche imprecisione invece per Milena Baldassarri, sempre della ginnastica Fabriano, che ha chiuso la World Cup Pesarese con un quinto posto al cerchio, settima poi alla palla, sesta a clavette e nastro. L'Unione Sportiva Tolentino 1919, dopo una lunga collaborazione, ringrazia l'allenatore della società Cremisi Andrea Mosconi. La società è già alla ricerca di un suo sostituto, intanto scopriamo qualcosa di più in merito nel servizio. Presidente, si comincia a pianificare il futuro o non ci sarà Giorgio Crocetti come direttore sportivo per la futura stagione? A livello societario già vi siete organizzati e ancora ci sarà da decidere per quanto riguarda il mister? Sì, difficilmente rivedremo Andrea Mosconi, chiamarlo mister, mi è difficile perché oramai è subentrato un rapporto di confidenza e di stretta amicizia. Non è una questione tecnica, non è una questione economica, l'accordo c'è, noi l'abbiamo promosso a pieni voti, lo abbiamo confermato. Ma Mosconi è una persona profondamente onesta e mi ha fatto presente di aver esaurito le energie mentali che occorre per fare miracoli come questi, cioè portare un Torettino al terzo posto di Cirone e quindi dopo quattro anni e mezzo per non mettere a rischio né noi né lui ha preferito fermarsi. Poi io gli auguro di trovare un'altra squadra entro qualche giorno o gli auguro anche di ripensarci fin quando non avremmo trovato chi guiderà i ragazzi gremici. Per quanto riguarda invece il discorso del direttore sportivo c'è una riorganizzazione interna? Sì, sicuramente. La cifra che descrive l'Unione Sportiva Torettino è quella di essere una famiglia calcistica, quindi con noi non potevano avere fortuna i soliti lupi di mare che fanno del calcio una professione. Ci siamo guardati all'interno, abbiamo Simona Antinori che è membro del CDA e che è stato sempre a fianco di Giorgio Progetti in questi ultimi tempi e abbiamo tre persone che masticano il calcio da un punto di vista tecnico e organizzativo che sono Cesare Martellini, Vittorio Vingioni e Alessandro Lorenzi. Quindi anche qui ci affidiamo alla linea verde e sono sicuro che faremo molto ma molto bene, anche se le risorse poi potranno essere limitate, ma questo non ci spaventa. Penso che sotto gli occhi di tutti abbiamo fatto una stagione eccezionale, siamo andati oltre i nostri limiti, abbiamo fatto un grandissimo campionato dove tutti dobbiamo lottare per la retrocessione. Invece abbiamo giocato al terzo posto con una finale pericoloso a Redettese, 92.000 persone, penso che meglio non si poteva chiedere. Abbiamo lanciato tanti giovani, abbiamo fatto giocare Mengani, un ragazzo interessante, settore giovanile, ma il torrentino c'è una cantera importante e l'ho fatto giocare, ma no perché erano giovani, perché erano bravi. Tendo a ringraziare tutto lo staff mio e poi i primi sei crocetti e la società per mi dare questa opportunità. Domani, mercoledì 8 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, la rete viaria della città di Tolentino sarà interessata dal passaggio della tappa a Castel Raimondo-Ascoli-Piceno, che attraverserà diverse vie, le quali, per garantire la sicurezza dei ciclisti, saranno momentaneamente chiuse al traffico, nell'ambito della Adriatica Ionica Race. Il comando di polizia locale ha quindi provveduto ad attivare una comunicazione con tutte le aziende del territorio, fornendo info utili e suggerendo percorsi alternativi, considerando anche l'orario di passaggio della corsa per l'uscita e il rientro pomeridiano nelle imprese. Inoltre sono stati affissi lungo il percorso dei cartelli informativi che comunicano il passaggio della tappa e la chiusura quindi delle strade. I cittadini sono invitati a collaborare con gli addetti alla viabilità che saranno presenti lungo il percorso ed in particolare agli incroci. Ancora calcio perché nel girone C di prima categoria si è giocata la prima giornata dei play-off, fattore campo rispettato a Cassette Verdini dove i padroni di casa si sono imposti 2-1 contro la formazione del Montemilone-Pollenza, ma scopriamo di più nel servizio. E' stato un bel derby, una bella partita, tirata, logicamente noi abbiamo cercato di fare meno errori possibili e poi purtroppo ci siamo condannati con un errore nel momento migliore, penso nel secondo tempo, verso la fine del primo tempo supplementare, quando avevamo preso campo, era 1-1, stavamo facendo bene, poi un errore che può succedere a tutti quanti, specialmente in queste categorie può succedere, ci ha tagliato un attimino le gambe e poi l'ultimo quarto d'ora abbiamo provato, ma oramai la partita era andata, abbiamo giocato contro una grossa squadra e sono contento perché abbiamo fatto una grossa prestazione, nonostante fossimo andati sotto per 1-0 abbiamo pareggiato, abbiamo fatto bene, però purtroppo i dettagli fanno la differenza e purtroppo un errore ci ha tagliato le gambe. La partita difficile non poteva essere altrimenti perché era una gara di playoff, quindi come sempre sono gare equilibrate, in più c'era il fattore derby che si è sicuramente fatto sentire, anche un po' tanto dalle parti nostre, infatti eravamo un pochino più contratti, soprattutto nel primo tempo. Poi siamo venuti fuori, abbiamo trovato il gol e l'abbiamo gestita anche abbastanza bene, se vogliamo. Poi è chiaro, Pollenza è una squadra che non molla mai, quindi ci ha tenuto lì, ci ha tenuto la partita in piedi fino alla fine, però noi avevamo anche questo vantaggio di giocare in casa e quindi questo piccolo vantaggio l'abbiamo sfruttato, ma l'abbiamo sfruttato perché siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto che ci vuole per vincere questo tipo di partita qua. Quindi credo che sia un successo sicuramente meritato, che va a seguire le tante ottime prestazioni che abbiamo fatto in tutto il girone di ritorno. Niente, lavoriamo, andiamo avanti, c'è poco tempo per festeggiare perché già da lunedì abbiamo testa per la prossima partita e quindi ci dobbiamo preparare per una partita che sarà sicuramente diversa da questa, perché troviamo un avversario totalmente diverso. Godiamoci questa vittoria che era importante per noi, per il gruppo, per i giocatori e soprattutto per la società e per gli sportivi, ci tenevano tanto a far bene in questa, chiamiamola stracittadina, c'era tantissimo pubblico quindi dovevamo fare bene, fare bene davanti a loro, credo che siamo stati una squadra che ha fatto anche un po' innamorare il pubblico, soprattutto perché è una squadra che ha cercato di giocare al calcio, che non ha fatto istruzionismo, che non si è difesa e basta e che non ha fatto falli, che non ha protestato più di tanto. Questo è importante e dà merito alla società e al gruppo, insomma. Quindi sono sicuramente contento due volte, sia per la vittoria che per l'atteggiamento che abbiamo avuto. Lorenzo Vipera, tredicenne di Tolentino, conquista il terzo posto nella categoria esordienti ai campionati nazionali di karate, ospitati ad Ostia. Col peso di 53 kg, Lorenzo ha conquistato una medaglia di bronzo nel combattimento. Dopo la semifinale, persa per 0-0 su giudizio arbitrale, ha trionfato invece nella finale, conquistando la terza piazza. Buona prova anche per Riccardo Bonfranceschi. E con quest'ultima notizia dedicata al karate termina anche questa edizione del nostro TG. Grazie come sempre per averci seguito, vi auguriamo di trascorrere una buona serata. Grazie a tutti.